Ciao a tutti ragazzi, adesso più che mai ho voglia che arrivi il calcio giocato, quello sul campo, con gli spettatori attorno, una palla, le azioni, i crossi, il calcio d'angolo, gli arbitri, eccetera, eccetera. Perché? Perché ogni volta che leggo qualcosa sulla gazzetta o sul Corriere non è una cosa bella. Adesso quello che fa banco è il bilancio del Milan. Non voglio andare dentro all'aspetto finanziario assolutamente, voglio solo dire che i tifosi hanno sempre avuto ragione. I tifosi hanno sempre avuto ragione. Numero uno, ho visto il video di Pelegatti, dove Pelegatti dice, ma io non capisco molto di tutto il resto, patrimonio consolidato, eccetera, eccetera. Però una cosa la capisco ed è il brand, il marchio, chiamiamolo in italiano, il marchio che si è svalutato e che è poco appetibile. Io a questa cosa non ci voglio credere. Mi dispiace Pelegatti, ma a questa cosa devi crederci per un semplice motivo. Quando le aziende sponsorizzano, pagano per gli sponsor, per essere sponsorizzate, loro si affiancano a delle squadre vincenti. È così, c'è poco da fare. Se io devo sponsorizzare questa penna, prendo il Liverpool che sta vincendo, la Juventus che sta vincendo, il Bayern Monaco che sta vincendo, tutte squadre che stanno vincendo, perché il messaggio è vincente, l'altro messaggio deve essere pure vincente, eccetera, eccetera. Se il Milan dovesse vincere domani, senza dubbio quelli della penna andranno dal Milan. E proprio non è il nome, è il momentum. Questo è veramente importante nel marketing. Tu ti affianchi a quello che è vincente perché il messaggio deve essere vincente. Il Milan in questo momento ha delle difficoltà e quindi gli sponsor tendono ad andare via. O tendono a non offrirsi. E questa è una cosa normale. E qua vengo al primo punto dei tifosi, che avevano ragione. Quando i tifosi dicevano, ma prendiamo Ibrahimovic, prendiamo qualcuno forte, pagalo perché arriviamo al terzo, quarto posto, anche quinto posto, però sai, riaccendi l'entusiasmo. E i giocatori che adesso ti valgono 10 milioni, se li porti al quinto posto, te ne varranno 15. È tutto un valore di squadra che si alza. Quindi quei solo 4 milioni, anche 5 milioni che spendi per Ibrahimovic, te ne ritrovi 100 dentro. Ed è vero. Ed è vero. Cioè, proprio è vero. I tifosi lo sanno, lo sanno per esperienza, lo sanno sulla loro pelle. Non si capisce perché gli altri no. Non si capisce. Forse non capiamo nessuno di noi, però dopo i bilanci sono là a parlarti e a dire chi aveva ragione e chi aveva torto. Prendi 3 milioni, ok, allenatore, allenatore, fai uno sforzo per Spalletti, fai uno sforzo per l'allenatore, è importante, fai uno sforzo e paga. No, paghi 3 milioni Maldini, 3 milioni Maldini e dopo vai là con i conti della serva, con l'allenatore, sai, ti possiamo dare 70.000 euro in più, 80.000 euro in più, ma a Spalletti non lo possiamo pagare. Non si capisce. Non si capisce. Quando è che l'Inter si risolleva? Dopo Toir e dopo i primi anni di Zhang? Perché quando Zhang incomincia a mettere i soldi, allora è tutta una ruota che gira, prendi Spalletti, gli dai 5 milioni, dopo prendi Conte, gliene dai 10, eccetera, eccetera, e ti risolleva la squadra. La squadra se ne va nelle prime 3-4 posizioni, diventa un abitué della Champions League, entrano questi soldi della Champions League, fai più, prendi gli sponsor, è così. Cioè, non è che ci vogliono 7 lauree per... è così, è così. Cioè, questi ragionamenti li fa da quello che ha veramente 10 lauree a quello che fa il fornaio, l'autista, il portiere di albergo. Cioè, tutti, capisci, tutti fanno questi ragionamenti, non si capisce perché, non si capisce, e io questo è sempre il mio stesso punto, non si capisce, il punto è non si capisce quello che sta succedendo. E questo è. Dopo, se il Milan deve vendere, venderà, venderà ai giocatori, farà plus valenza. Allora, una cosa per chi non lo sapesse, quando si parla di plus valenza e minus valenza, quello vale soprattutto per il fair play finanziario. Se devi andare a giocare in Europa, la UEFA vuole che tu faccia super... super... plus valenza, ok? Ma, ma, in quanto bilancio, in quanto tale, in quanto entrato, uscite, conti, ricavi, costi, cioè, non c'entra niente la plus valenza o la minus valenza. Se tu hai un bene che hai comprato 50 e lo vuoi vendere al 30, fare una minus valenza di 20, però nel frattempo quei 30 ti entrano al bilancio e togli le spese di costi. Cioè, queste sono cose finanziarie che comunque a me dà un fastidio parlarne, perché io voglio parlare di calcio giocato. E sta cazzo di sosta, scusate, ma qualche volta non la sopporto per questo motivo, perché ti rallenta tutto. Cioè, il calcio è bello perché ti tiene impegnato, ti tiene distratto da altre cose. Se manca quello, tu, dopo i pensieri, a meno che non ti organizzi una vacanza, chissà dove, però il calcio tiene impegnato, distrae, diverte, ma il calcio giocato, non questo calcio di bilancio, uscite, entrate, il marchio, il sponsor. Questo, ai tempi, io mi ricordo che fino a dieci anni fa era lasciato alla dirigenza, ad altre. E invece, ultimamente, con il fair play finanziario, tutti parlano di... ormai siamo diventati tutti esperti finanziari, perché non possiamo fare altrimenti tutto per capire come va. Dopo, alla fine, dopo alla fine, dopo alla fine c'è un campo. C'è un campo che ti dice chi vince, chi perde, però siamo sempre lì a parlare di queste cose. E vi posso dire che anche qui in Inghilterra, ovunque ormai si parla di questo. Cioè, ovunque ormai si parla di finanza più che di calcio. Anche perché dopo il calcio te lo tolgono davanti e ti fanno giocare a nazionali, ti bloccano per due settimane a parlare del nulla cosmico, di partite come l'Ikistan Italia, che sinceramente gli era in porta poco a nessuno, o di Bulgaria e Inghilterra, dove succede quello che succede, si parla di altro, ma non dell'aspetto tecnico. Qualcosa che devono mettere a posto. Il calcio sta cambiando, il calcio come fenomeno sociale sta cambiando tantissimo. Se non c'è possibilità, ma comunque se ci fosse una possibilità, se andate a vedere la gazzetta dello sport 15 anni fa, quello di cui parlava e quello di cui parlo adesso, gli argomenti sono cambiati, è cambiato tutto. Ecco perché dico, l'unica cosa è ritornare all'essenza, alla tradizione, che è il calcio giocato. E il calcio giocato, uno si mette là, da andate a visione, ora ci sarà Lazio e Atalanta, bella da vedersi. Io spero di fare le pagelle sul Napoli, sulla Juventus, proprio perché voglio farle, perché voglio vedere se sono qua a casa, pioverà sicuramente, qua non c'è molto da fare. Se vedo le partite, e anche le altre partite, perché dopo io anche per cose mie devo vedere la Bundesliga, la Premier League, e quindi ovviamente vedo anche quella che mi interessa, che è la Serie A. E quindi se ho il tempo, due minuti, faccio anche le pagelle. Questo è il bello del calcio, quello è quello che ti diverte. Dopo vai là e va a sentire che una squadra che aveva totalizzato tanto credito, come il Minan, con 7 Champions League, con essere una delle squadre più famose al mondo, messa là, parcheggiata nel vicolo di nessuno. Boh, non si capisce, e ritorno a dire che, primo non si capisce, secondo non mi diverte, ma per nulla, non mi diverte per nulla. Non c'è nulla di divertente in questo. Cioè, quando si dice lo sfottò fra cugine, a me piaceva stare a Milano, perché fra milanista e interista c'era lo sfottò, ma si andava là sempre a sorridere, alla fine si finiva, non si finiva mai nervoso, si stia sempre a ridere, sempre eccetera eccetera. Ma io credo che anche a Milano oggi gli interisti non sfottano gli interisti, perché la situazione è che non si capisce, c'è qualcosa di grigio, che non piace a nessuno, c'è un'aria, un sapore ingiusto, che non piace a nessuno. Quindi io spero, prima o poi, davvero, che il Milan prenda un nuovo presidente, questo presidente si metterà là, piano piano, dirà, sentite, i primi due anni c'è da fare, va bene, tutte cose, i tifosi sarebbero contenti, dice, va bene, mangiamo pane e cipolla i primi due anni, dopo, piano piano, si arriva in Champions, i giocatori, ci divertiamo. Questo ormai è quello che vogliono tutti, ma non restare in questo limbo che ogni notizia che esce è una rottura di palle per tutti, anche per i non tifosi, figuratevi, figuratevi per i tifosi che è una rottura di scatole. Punto. Mi hanno chiesto anche, parlo un po' del bilancio, io non vado dentro al bilancio, io non vado dentro alla squadra Milan, io vado dentro alla squadra, notizia, questa è la notizia, questo è il mio pensiero sulla notizia, che è una cosa che non se ne può più, è una cosa che non se ne può più, cioè, trovate una via d'uscita, perché comunque questa strada che hanno preso è una strada, veramente, che non vedo luce alla fine del tunnel, con questa strada che hanno preso, prendano un'altra, e questo è un punto. Il secondo punto per me è ancora più importante, molto più importante, che finisca questa settimana, porca miseria, e ritorni il calcio giocato, adesso penso anche a novembre, un'altra cavolo di sosta, ma che ci sostiamo a fare così, che ci sostiamo a fare? Il calcio sono tanti soldi, sono tantissimi soldi che girano, tantissima passione, entusiasmo, movimenti, chi guarda la televisione è il calcio a casa, chi va allo stadio, chi va... C'è tanto movimento, blocchi tutto, e non bloccare tutto, cioè, siediti, fate qualcosa a tavolino, un calendario a tavolino, e togliete alle palle questa sosta che mi ha rotto le scatole. Ciao a tutti ragazzi, per oggi è abbastanza, ma forse dopo ci sentiamo di nuovo, ma si aspetta davvero il calcio giocato. Ciao ragazzi, ciao a tutti.